Prenderanno il via venerdì prossimo a Houston, in Texas, i campionati mondiali seniors di pesistica, manifestazione che metterà i primi verdetti per la qualificazione olimpica ai giochi di Rio de Janeiro del 2016. Mentre la squadra maschile è chiamata solo a migliorare i totali olimpici dei singoli atleti, quella femminile si trova già negli Stati Uniti dove avrà la possibilità di staccare un biglietto per il Brasile. Le pesiste infatti dovranno difendere il quindicesimo posto ottenuto in qualificazione al mondiale dello scorso anno perché tale piazzamento permetterebbe loro di ottenere ben tre posti in pedana a Rio. Anche un posto in classifica che vada dal diciassettesimo al ventunesimo posto garantirebbe comunque il raggiungimento dell'obiettivo ma solo con due passi olimpici. Tutto il Salento tiferà per le atleti azzurri dal momento che tra le sei convocate della direzione tecnica nazionale figura anche la copertinese Maria Grazia Lemanno, da settembre tesserata per il centro sportivo dell'esercito italiano. In squadra con lei le siciliane Jenny Pagliaro, Eva Giganti, Giorgia Russo, Jennifer Lombardo e la varesina Giorgia Bordignon. L'atleta salentina in gara nella categoria 69 kg salirà in pedana mercoledì prossimo. Se le pesiste italiane non dovessero comunque qualificarsi avranno un'ulteriore chance collettiva nell'Europeo 2016 che è in programma in Norvegia.